Sindaco, procedono i lavori per il terzo svincolo dell'8-0, quello della Gammarana? Sì, siamo nella fase conclusiva, cioè della costruzione della rotonda. Adesso bisogna lavorare sull'8-0, quindi c'è un'interferenza. Io avevo promesso e garantito ai Terramani che l'8-0 non avrebbe chiuso e così sarà perché i lavori si faranno di notte. Per cui nella giornata l'8-0 resta aperto, i lavori dureranno all'incirca una settimana lavorativa e l'inizio dei lavori è fra l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Definiremo nei prossimi giorni bene la data di inizio. L'opera è quasi completata e presto potremo tagliare questo ulteriore nastro per una bretella, per uno svincolo secondo me molto importante perché fa riferimento ad una zona, quella della Gammarana che è la parte di territorio terramano che nei prossimi anni avrà maggiore sviluppo. Quindi sicuramente la bretella dell'8-0, questo svincolo, aiuterà questa parte della città a crescere e a svilupparsi.